...e poi portiamo via il resto. No, ma non ho sbagliato. Grazie. Ho sbagliato io perché ho letto male il catastale. Avevo una copia fatta come era fatta. Io sono passato alle due e mezza. Non c'era il mio. Infatti siamo arrivati... A cinque e mezza. Lei ancora fa la presenza. Sì, sì. Ah, lei... Sì, sì. Povera una voce, quindi... Sì, era un po' comodo qua. No, ma non è comodo. Io li avevo... E per... I progettisti avevano chiesto di venire il più inciupposibili. Perché il foro è originariamente... Era posizionato di un posto venuto. I scivi. Loro abbiamo proposto una serie di posizioni alternativi. Però io, a me, avevo interpretato la strisetta sottile che c'è come la riva. La riva. E poi l'accesso, l'aspetto di strada, che c'è la strisetta sottile che c'è la strisetta di lì, come l'altra strisetta. Però in realtà io... Ma ce ne due strisci di terreno qui di qua. Ce la strada e altre due strisci di terreno? Ho visto ingrandendola... Praticamente... Ingrandendola tanto ho visto che era... Praticamente dovrebbe ripartire da lì... Sì, adesso, tra le altre cose... Infatti, qui è il limite preciso. Il limite preciso... Il limite preciso, diciamo che... Dovano ancora vederlo bene. Perché qua, quando avevamo scavato, avevano tirato via dei terri. Comunque, non c'erano. Qui, qui no. Perciò non saremmo allargati infinitamente. Comunque, guardi... I signori hanno misurato per mesi e mesi e mesi e mesi. Si faccia dare... Sì, ma il problema non è la carta. La carta magari esiste anche, ma se non hai riferimento in terra... Pensa un po' quando dovete fare il tunnel di Vali. Ma non lo facciamo... Pensa un po'. Non lo faccio io, per fortuna. La banda del buco lì. Non lo faccio io, per fortuna. La banda del coce, del buco. Deve proprio filmarmi? Non credo che sia vietato. Penso di sì, invece, se io non sono... D'accordo. Si sbaglia. Posso, no? No, però evitiamo di far chassini. Allora si può filmare. Il problema c'è da filmare. E perché? Boh, basta, l'hai filmata la faccia. Che problema c'è? Il problema della faccia stavo...